Il salmone che ho appena provato era buonissimo, sto provando una nuova pietanza, questa volta qui è un piatto di pasta con una specie di matriciana, è fatta sulla falsariga, ci sono anche i funghi, è una porzione gigante, è una pietanza giapponese, l'ho presa qui a fianco, c'è cucina giapponese e c'è questa bellissima pietanza di pasta, proviamo ad assaggiare come è fatto il ragù, carne di maiale, è molto compatibile con i nostri gusti, non c'è quasi differenza rispetto a come la faremo noi, come gusto perlomeno del sugo, la pasta l'ho già provata ieri, è stesa a mano, è molto buona, ed è condita con, questo qui è l'ucrop, che non mi viene in mente come in italiano è il prezzemolo, giusto il prezzemolo, ecco, condiscono queste cucine giapponese, ho notato che condiscono la cucina in maniera molto simile come viene condita in Russia, ecco, mi do il buon appetito da solo, ciao a tutti, ci sentiamo al...